Ciao Aioni, non ho più idee Ciao Aioni, come state? Come avete detto nel titolo? Oggi proviamo a giocare utilizzando una sola mano Attenzione, se arriviamo alla bellezza di radice quadrata di 1296 like Porterò un video in cui provare a giocare con i piedi Le idee ragazzi, le idee Ho fatto un setup apposito per poter avere tutte le cose in questa zona del pad Quindi c'ha l'attacco su X, special su A, scudo su... beh beh, insomma roba E siccome sarebbe stato troppo facile giocare contro la CPU Proverò a giocare online Andiamo a fare un bel torneo, uno contro uno E siccome oggi in l'occasione portiamo questa bella maglietta Di un personaggio che riconoscete tutti Andremo a giocare proprio lui King Keroon Gioanno Kiatun Io già così è un... poi devo pure giocare a un personaggio che non so lo sa Raga, andiamo con i main E andiamo, Head Flipper Lui non sa che io uso una mano quindi No Su Porca mi cominciamo benissimo Non so che tanto ti sto premendo Appiii Fallimento assurdo, il primo match Devo riuscire a vincere almeno qualche match Andiamo Ma guarda dove mi è preso Mi è caduto il... È caduto pure King Keroon Sali Mannaggia Ma che puni... Che brutto Potevo fare un F Smash Potevo distruggerlo Mamma mia, grande panza Dai con l'F Tilt Si recupera ragazzi contro Mewtwo Non riesco a muovermi No, era da un Smash Maledetto io sia E sali Contro Mister Game e Bradipo Questo sarà pure italiano Figura di me Preso con l'F Smash Attenzione Stiamo dominando Dominiamo No, se la leggevo Il punto è non andare Non andare offstage Perché se vado offstage È terribile recuperare Mamma mia, quasi Sali, 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 sali Mamma mia Ah E va, ste bombe Dai, è che si va Stock, dai, 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 dai Era F Tilt Sali Next tournament La cosa più fastidiosa È che scivola Devo spammare, va Secondo me La migliore arma lo spamm Si inizia in vantaggio questo match No? No, non mi devi buttare offstage Non mi devi buttare offstage Arrivo Dai Ok, prima stock Vantaggio per la prima volta, ragazzi Vantaggio per la prima No, no, no Mi sono buttato in bocca Con una mano No, era già Ok Ma che sta combinando? Adesso Smash L'ha uccido? Si angolo Let's go Spinto il primo match, ragazzi Chissà quale sarà il mio prossimo avversario Devo fare le smash a caso Devo fare più corone a caso, secondo me Che questo non sa che ha una K Sembra che non sappia Oh cacchio Il mio nero Il mio nero Tasti Marano, l'ho recuperato Ho premuto tasti a caso Preso Let's go Mamma mia, è caduto proprio nel flash smash Ragazzi, il sogno continua Con la rage ce l'abbiamo Devo fare qualche lettura scema No E che devo fare? No, ho sbagliato tasto Devo fare flash smash Let's go La combo No Volevo fare la pair Vai Let's go Arriva sotto Game 2 Si prende O wolf O jigglypuff Preferisco wolf Sinceramente No Si era girato dall'altra Ma No Che devo fare mo Premi tutti i tasti Tutta Con tutto il palmo della mano sono andato Forse non era così tanto meglio E dai Per pochissimo Sali Vabbè era pure morto Proviamo però questa volta Magari con Game & Watch Questo torneo si può addirittura vincere Siamo 8 di noi Allora Gigino Salti L'ho preso No Il martello Maggi metto il 9 Con una mano 9 1 Bastardo No Sono morto Oh kirby 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 Dove vai Suicidati Ti prego Dai Yes Funziona la combo Lui spamma smash Devo aspettarmelo Devo aspettarmelo Era up smash Se entrava up smash Era morto forse Ma che Il re dell'RNG Contro Mr. Game & Watch Quello già Giocando con due mani Non lo so sopportare Lo spam di Iro Figurati Giocando con una sola mano C'è ma mori a 50 Gig buff Aiuto Sono un'attacca È buono Ok Non mi sto facendo toccare Incredibile E Pit Statice Panzaro Up smash Daie Ok Dai gigi buff Bombe Daie Let's go Addirittura Bistock Roy Cliccatur E bombe Ma rosa Per fare Le combissime Mannaggia Non riesco Per pochissimo Allora Randomizzare 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 Spam 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 Su Qua Let's go No che devo faremo Carica Carica Io intanto Non recupero Bombe Mamma mia Raga Ma porca miseria E bombe Mi ha bombato Scupeato Ce l'avevo Tanto così Raga insomma Provate a giocare Con una mano Ma come vedete Sono arrivate Due o tre Tre o quattro vittorie No forse tre Non lo so Forse Non lo so Quei ragazzi È davvero terribile Però Ti allena per Per niente Non giocate Non o meno ragazzi Insomma Ci vediamo un prossimo video Ricordate E bombe